In Slovenia, a 5-10 km dall'ex confine, l'ho iniziato perché ho preso questo virus di questo mestiere già da piccolino, perché mia mamma lavorava in un albergo in Slovenia all'Ipizza e essendo sempre tra i piedi degli cuochi e dei camerieri ho preso questo virus. Perché non sappiamo valorizzare bene la pizza proposta, perché il cliente comune bisogna spiegargli perché abbiamo creato una pizza con un certo abbinamento di prodotti di materia prima e se il cliente capisce perché questa combinazione allora non cambia gli ingredienti. Ma vorrei che il cliente conoscesse la materia prima. Cioè vuol dire che se il cliente conosce il prosciutto che uso, la verdura di casa, la patata contadina, sente il gusto, sente la differenza del gusto, dà un valore in più al mio piatto, alla mia pizza o qualunque cosa e gradisce anche di più.